Onorevole, perché avete votato a favore dell'arresto di Cosentino? Bella Lega Nord ha dato parere favorevole alla custodia cautelare in carcere. La giunta per l'autorizzazione non deve entrare nel merito dei fatti, non deve valutare se un fatto costruisca reato o meno, né deve giudicare se l'acquipovolezza o meno del deputato. Deve invece verificare se si ravvisi un intento persecutorio da parte della magistratura, un intento persecutorio che noi non vi abbiamo ravvisato. La Lega Nord quindi ha voluto esprimere con chiarezza una posizione su questa vicenda? Ma è una decisione molto chiara, molto precisa, che troverà coerenza anche poi nel voto in aula, perché è una decisione condivisa da tutti quanti, in particolare ovviamente dai membri della giunta per l'autorizzazione, ma è una decisione della Lega Nord. Come risponde al PDL che non ha gradito questa decisione? Beh, si può anche capire che il PDL non condivida questa decisione, ma in questo caso la Lega Nord deve dare un parere, deve dare un voto che sia coerente con quelli che sono i propri principi. Grazie.